Bella a tutti ragazzi, questa qui è una nuova puntata delle amichevoli di Fabi Matti XXX e oggi andremo a sfidare la... Neo Japan Esatto La Neo Japan non è fortissima ma visto che non volevamo far subito al Brasile che magari lo teniamo per la fine Sì, perché diciamo che si considera danno alla squadra un po' più forte, diciamo Ecco, come ultimo, se vedete il Brasile come amichevoli vedete il Brasile è l'ultima Vabbè lo diremo comunque Vabbè comunque durerà ancora molto perché ci sono ancora molti amichevoli Anche se devo... E anche dipende da quante squadre sono Io ti consiglierei vivamente di cambiare la formazione Giude in attacco come hai visto, cioè Stai giocando con una squadra un po' di cacca Lol Qua niente, ma niente, dovrei superarlo con facilità Cosa è questa? Ah sì, la palasorfante La palasorfista, come cavolo l'avevo chiamata? C'è un Asm che si è connesso in giude 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 che si fa vedere Usiamo il Pimini in perca Il numero 3 che è per la prima volta Ho conosciuto in questi amichevoli No, fatta la usa No, l'avevi usato una volta mi sembra Sì sì sì, da una volta e basta Quando tu mi hai detto usalo Ok, vorrei segnargli abbastanza Sì 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 Ma comunque amichevoli dureranno ancora un po' Vabbè non tantissimo Fra poco siamo al, questo sarà il nostro 93esimo video Per molti non sarà tanto Come avete visto abbiamo pubblicato anche delle carte numero di Yu-Gi-Oh! sul nostro canale Sì, infatti magari ve le metteremo Non passano facendo un bel po' di visualizzazioni Sera anche a voi piace Oh, Dio che mi piace quasi a tutti Boh, guardatemi più belle Beh, comunque concitiamo sulla partita Boh, è una patria del merda Ti ho detto che devi sfidare a Brasile Ma perché a Brasile è dalla Perunti a me non mi dice Quindi il Brasile è bello Comunque vabbè Tenterò di non LOL Tenterò di non farmi distruggere Ok, uso il E' quello in cui, ecco infatti Quello che lo partì in arte di rigore Sì Spremmo di farla prendere magari a Mark Quello lì dell'unicorn Mark Giù Ancora Giù Sì, vedi Questa tecnica cos'è Ah, beh Qual è il suo gemello Come si chiamava quello dell'Idemon Dust Ho un data per forante Non mi ricordavo che Ragazzi io devo ancora mettere Il video del Contri per Dragon Non mi ricordavo come si chiama Comunque se vedete che gioco un po' Cioè gioco un po' male perché Da un po' che non gioco Vabbè Siamo 2 a 0 al 12esimo Al 13esimo Anzi Perché Comunque voglio dire magari di guardare anche gli altri episodi che comunque sono belli Quelli della Germania E tra poco visto che sono riuscita a scaricare Camtasia Faremo delle Cioè farò soprattutto io Delle custom map di Minecraft Cioè prima le devo trovare perché tutte le quali ho fatto faccio uno schifo Più Soprattutto saranno dei survival Cioè tipo ocean Sì oppure magari faremo anche dei Impact of the day su Mv3 Che è una specie di serie in cui giochiamo dalle partite su un petto Faremo schifo Cioè quindi non scrivetecci nei commenti Fate schifo Perché lo sappiamo Ok Mark Ok dai Il suo primo tiro in tutta No secondo Secondo? Sì Qual era il tiro? Mi pare No era questo Non era quello da 22 No Come si chiama? Il lupo mannaro No grande lupo Sì sì grande lupo Sì Era più figo il lupo mannaro Si Ok vabbè Poi il censù sarà più figo lupo mannaro Poi il censù lo stesso Anche se non era figo Capito Comunque scriveteli perché Pocissimissimi iscritti C'è anche se faccio un video Vabbè vabbè Diciamo che Sì E vabbè sì Vabbè però Rispetto all'inizio Penso che ne avevamo zero Lol Non so cosa serve Ce l'hanno ancora loro Poi la palla Scrivete nei commenti Cosa serve quella cosa lì Forse non è che fa calare pt a tutti gli avversari Boh No no Boh cosa dire di Sitta Sì Morsa doppia No Non so Non è questo colpo di samba Perché non so sempre No No è quello del Brasile Che c'è il colpo di samba Questa è Bocca Non è di luce Borda E lo chiamerei Topspin Non so neanche perché Però mi è venuto Topspin No ma io ho visto il film La chiamava God God vuol dire oro God Ah God vuol dire Dio Lo so ma Tipo Mark diceva God and Per fare la mano di luce Non di luce Non è Aspetta roda Vabbè non lo so Quella chiamerà Come cacchia Ma quanto è Vabbè non posso usarla Oh no ne posso usarla Vabbè non posso usarla Allora questa non posso usarla Usa la seconda Era questa Ma non ce l'hai tu la palla Ah Scrivete nei commenti Che Matteo fa schifo Vabbè non gioco Da un buonissimo Vabbè se è 4 a 0 E non è neanche finito Il primo tempo Adesso qui era quello Della Shuriken Giusto Beh comunque Noi tuoi progetti Non ce l'abbiamo Magari continuerò a fare Qualche cose di video Sì Aveva in mente di fare Un walkthrough Walkthrough Come cazzo si dice Di pokemon Nero e bianco 2 Però poi abbiamo deciso Di smettere Perché l'avevano già fatto In molti Ah ma poi Nel momento C'è Alla fine Vi consigliamo Non c'è scaricato Perché l'avevano fatto Anche me Dopo scaricarlo Sì Cioè Non comprare Perché è veramente Io l'ho già finito Ma fa schifo Tanto Cioè questo qui in due giorni Che l'ha finito Che era finito Cioè No ma A parte che l'ha finito In 4-5 giorni Appunto Cioè secondo te È il caso Di finire un gioco In 5 giorni È cortissimo Guarda che Non è come Nero 1 Cioè Entravi in una città Già battevi il capo palestra Così senza far niente In plasma Era solo alla fine Con una navetta Cioè No 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 Non ho più pittimi Cos'è stata? La chiameremo L'occhio di falco Ok La chiameremo l'occhio di falco Ok La malenergia Ovvio che mi diceva Magari se tipo Ci dite magari Che squadra affrontare Sì Infatti Scriveteci nei commenti Che squadra Dobbiamo affrontare Magari che serie Volete vedere Per dire Voglio vedere un po' Di amici Vienzo D'accordo Cioè Non so Cioè Oppure quella In italiano Tu hai già In quella lì Delle Delle che abbiamo Affrontato la scorsa volta È già perso Tutti i nomi In italiano No Devo metterlo Magari Oggi Quando te ne vai In Prima Oggi Discutendo Di un Oggi Quello che Sì La Ottava Ottava Mi pare Sì Questa è la Nona Vabbè Io fra poco Dovrei andare a casa Quindi Lascerò Il One Commentary A Matti Vabbè Adesso Stai 5 minuti Dipende E no E perché Sì 5 minuti Nonco Sì 3 minuti Nemmeno Poi Aspetta E tieni il possesso Palla Fai girare La palla In tutto Il campo Scarta Tutti Con Mark Una volta Sono fatto Tutto il campo Con Mark Quindi Quasi Segnavo Però Non 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 Muori Patata Non Adesso Mi Fai 20 Mi Piacciono I Treni Fisco Fisco La palla Classico Sai che proccio qui Tu Andiamo Basta non fai ridere Ok Ragazzi Sapete qual è il colmo per un topo? Avere una gatta da pelare Ha 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 Questa era bellissima Sai Quella è il colmo per Matteo? Essere un cretino LOL Io non sono un cretino Ecco il maestro E appunto E appunto Quindi io non sono un cretino E appunto Sei Un colgionito LOL Matteo è ricchione Matteo è ricchione Sto cercando di far ridere Non dire le parole Ci c'è nessuno Non è vero LOL Aspetti Per la prima volta Se mi manco una volta Non è vero E va bene È messo dentro Alle Dieci minuti fa Nel gioco L'hai messo dentro L'ho messo Il secondo tempo Iniziato Ok Cioè questo qui Sa il giapponese Perché naturalmente Vede già i nomi giapponesi Non so come cazzo Fai No perché questo Usa sempre la scivolata Amicidiana Ormai lo so Anticipo Vabbè tra Qua zero Vabbè vi faccio tirare Grande turbine Ah no Salto temporale Teletrasport Dai fai girare Cavolo Non andarli addosso LOL No era Era dentro Che cazzo LOL Fai il super tiro Ah non posso Ok comunque Ah beh la nostra Amichevole Finita Sei a zero Ragazzi Qui Fabio Chora E se me Federgo Mi vi danno L'appuntamento Alla prossima Ah 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 A voti Ciao Aspetta Aspetta Ciao a tutti Ragazzi E raghezze Grazie.